Avvio scoppio. Scansione ID. Controllo ID. Ok. Rilevate armi. Saranno bloccate. Carico verificato. Grazie. Sono avanti con gli anni, lo so. Forse è per questo che io non amo i cambiamenti. Ma non ho più paura di unirmi alle UCA. Ufficializziamo la cosa. Hai la mia fiducia e il mio rispetto. Per ora. Il tempo ci dirà se mi sono sbagliato o meno. Io voglio credere in te, Sam. Ti voglio dare una cosa, da corriere a corriere. Prima o poi ti tornerà utile. Stammi bene, Sam. Ok. Rilevate armi. Saranno bloccate fino alla parte. Carico verificato. Ti voglio dare una cosa, da corriere. Corriere a corriere. Prima o poi ti tornerà utile. Grazie ancora, Sam. Alla prossima. Ben fatto. Nuovo ordine di sistema. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.